All'entrada del temps clar, per gioiare e comensar, e per gelo si irritar, vola reggine a mostrar che le sia amorosa. Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un bel saggio intitolato Oltre il visibile, introduzione allo studio della pittura alto medievale, appena pubblicato da Bonanno Editore, di Giancarlo Germana Bozza, che abbiamo il piacere e l'onore di avere il nostro gradito ospite e al quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci parli di questo interessante volume. Prego professore, a lei. Grazie, ringrazio, la ringrazio molto per questa bellissima occasione di condivisione di quello che è stato un lavoro impegnativo, un lavoro che riguarda, già come dice stesso lo stesso il titolo, un'introduzione allo studio della pittura alto medievale. Il perché di questo lavoro, e soprattutto il perché poi vi dirò anche di questo titolo principale, Oltre il visibile, ecco, cercherò di dirvelo in maniera estremamente sintetica, anche perché non voglio rubare il piacere a chi vorrà poi effettivamente leggere il volume. Questo libro nasce da una idea ben precisa, un'idea che si è formata, ahimè, durante il periodo del Covid. Il Covid, da un punto di vista universitario, accademico, è stato un periodo molto complesso, difficile, in quanto le lezioni a distanza hanno un po' spezzato un filo diretto che legava il docente con lo studente, fatto di non solo di spiegazioni, cosa di per sé poco utile, ma soprattutto di dialogo. Ecco, con quel periodo di interruzione, chiamiamolo così, è maturata in me l'idea di creare qualcosa, uno strumento, un supporto, che potesse dare ai miei studenti dei corsi di arte antica e di arte medievale qualcosa di utile nel momento in cui loro vanno a studiare un periodo dell'arte, in particolare della pittura, il testo controverso, difficile, che è la formazione dell'alto medioevo. Perché vi dico difficile? Perché stiamo intanto parlando di un periodo storico ampio che va dai secoli di crisi dell'impero romano, quindi parliamo terzo, quarto secolo dopo Cristo, e arriviamo fino al periodo delle crociate, per intenderci, quel periodo storico che nell'arte viene definito periodo romanico. Perché intanto questa periodizzazione? Una periodizzazione che è, vi dico, accademico, quindi ho voluto utilizzare soprattutto perché questo volume è rivolto ai miei studenti, o comunque a tutti gli studenti che si occupano di storia dell'arte antica e medievale, che si trovano in difficoltà, chiaramente perché? Perché nella manualistica normalmente viene dato moltissimo spazio ai trattati al periodo classico, alla pittura romana, nel senso dei periodi, dei famosi quattro stili pompeiani, ma per quello che riguarda la crisi e la caduta dell'impero romano, poi la formazione della pittura medievale, c'è molto poco. Lo studente, ma anche lo studioso a cui io mi rivolgo, si trovano così in difficoltà a dover andare a prendere insieme più volumi o più saggi per avere già un quadro d'insieme. Ecco, il mio libro non è sicuramente una raccolta di tutte le opere, perché sarebbe stato assurdo pensare di fare un atlante delle opere pittoriche alto medievali, quanto piuttosto una trattazione sintetica di quelli che sono i principali periodi che vanno appunto dalla caduta dell'impero romano fino al cosiddetto periodo romanico. Ecco, all'interno di questa trattazione, come vi stavo dicendo, mi sono attenuto a quelle che sono le periodizzazioni abbastanza comuni nella manualistica, nella ricerca scientifica, anche se poi magari leggendo il libro ci si accorge che molte volte si fa un passo avanti per poi farne due indietro. Spiego meglio, parlando di pittura bizantina, si parla di Santa Maria Antiqua a Roma, ma ci si accorge poi che quella pittura è una pittura ellenistica, è una pittura che si richiama ai modelli ellenistici, quindi è difficile anche creare una sequenza di periodi, perché questi periodi fra di loro poi si accavallano, si toccano, portando e riportando a galla elementi che poi sembrerebbero mai essere superati. Periodizzazioni, vi dicevo, comunque abbastanza comune, se voi utilizzate, perché sono i testi classici dell'arte medievale, a partire da Kissinger, dal volume di Kissinger, che si chiama significativamente arte alto medievale, vi accorgete che proprio anche lui, che poi è il primo, il gran precursore di questi studi, ha utilizzato questa periodizzazione molto importante che va appunto dalla crisi dell'impero romano fino al 1100-1200. Ovviamente il volumetto di Kissinger, un volumetto molto piccolo, sintetico, è preziosissimo per chi affronta questi studi, non solo perché riassume quelli che sono gli elementi fondamentali, ma proprio perché ci dà una metodologia. Ecco, nel mio volume ho voluto riprendere un po', così anche indegnamente, quello che è stato il grande lavoro di Kissinger, ovvero lavorare sulla metodologia. Kissinger aveva un vantaggio enorme, lavorava all'interno del British Museum e si occupava proprio di quelle che sono le collezioni dell'arte romana, tardo-romana, alto medievale. E in questo modo aveva proprio sotto mano quelle che erano le opere, potendo quindi già rivalutare, ecco io utilizzo questo termine, perché? Perché nel secolo scorso questo tardo-antichità e alto medioevo venivano considerati come un periodo oscuro, un periodo di decadenza. E qui, ecco, provocatoriamente io ho scelto di non lasciare come titolo l'introduzione all'arte alto medievale, la pittura alto medievale, quanto titolo principale, oltre il visibile. Perché con oltre il visibile io cerco di dare più che altro una mia interpretazione a quella che è una produzione artistica che si dilunga molto nei secoli, ma che ha comunque una linea guida, un fil rouge possiamo dire, da seguire con molta attenzione, ovvero l'artista che propone le sue opere vuole andare oltre la realtà, oltre la materia. Ecco, il realismo a cui noi eravamo abituati nel periodo classico, un periodo classico che considero anche tutte le riprese della classicità durante l'Utero Romano, a un certo punto durante il III secolo sembra entrare in crisi. Durante il III secolo abbiamo quella che ormai, ovviamente superata definizione, di arte popolare, ovvero un'arte, una produzione artistica, in cui l'artista, il pittore nel mio caso, cerca di andare oltre l'immagine, la realtà, per rappresentare un concetto. All'interno del mio libro, infatti, io parto proprio da questo III secolo d.C., periodo di grande crisi, un periodo difficile per Roma, ma per la società europea in generale. Perché? Perché ci sono difficoltà inimmaginabili che portano ad avere paura. Quali sono questi timori? Subito noi pensiamo, le immagini dei film ci aiutano anche in questo, alle invasioni dei barbari. Le invasioni dei barbari, sì, sono una grande minaccia che vivono, soprattutto i romani che vivono lungo l'imes, sui confini, ma le paure più grandi, quelle che attanagliano veramente l'impero romano, sono ancora più complesse, difficili. Quella più immediata, che ci possiamo pensare, durante l'impero di Marco Aurelio, si abbatte sull'Europa, sull'impero romano, una sciagura terribile, che è la peste, una grandissima epidemia di peste, che devasta tantissime province, svuotandole di abitanti. Si innesca tutto un meccanismo di crisi, l'epidemia svuota i campi, e quindi nessuno più produce nelle campane, nei campi coltivati, e quindi segue necessariamente la mancanza, una fortissima carestia, che indebolisce a sua volta gli abitanti dell'impero e quindi li espone a nuove epidemie. Insomma, noi abbiamo parlato di pandemia in tempi recenti, sappiamo effettivamente che cosa significa. All'interno dell'impero romano, già a partire dal III secolo, si vive quotidianamente questo stato di crisi, di difficoltà. Gli storici, si occupano di fonti letterarie, di fonti epigrafiche, hanno analizzato ampiamente questo periodo. Ma se noi guardiamo le fonti archeologiche, soprattutto l'iconografia pittorica, ci accorgiamo che c'è ancora molto da dire. I vittori, infatti, cercano di rappresentare queste paure, questi timori, e cercano anche un po' di esorcizzarle. Quindi nel mio libro troverete delle immagini che non hanno nulla di razionale. Troverete, per esempio, un sacerdote piccolo piccolo che sta compiendo un sacrificio su una fiamma davanti a un'immagine enorme di Eracle, di Ercole. E' chiaro che questa non è un'immagine fantastica, Eracle è la statua, si vede anche dal colore, il colore bronzo, ma è un'immagine che non va vista semplicemente come rappresentazione reale di una situazione di sacrificio, quanto piuttosto con la necessità di accrapparsi a qualcosa, la divinità, il divino. Ecco qui la spiegazione. Oltre il visibile, dalla tardoantichità, l'uomo sente il bisogno di aggrapparsi a ciò che non è reale. Siccome la realtà fa paura e la realtà è guerra, la realtà è epidemia, la realtà è carestia, ecco che l'uomo ricorre a qualcosa che non è reale per esorcizzare le sue paure. E quindi, se noi guardiamo le pitture che si susseguono in questi, tra il terzo e il quarto secolo dopo Cristo, ci accorgiamo appunto, come per esempio le figure Galleggino nel vuoto, queste figurine semplici, immagini di uomini, donne, divinità, eroi, che vengono messe in un campo di un unico colore, sembrano quasi dei fantasmi che appaiono. È l'individuo, è l'individuo che ormai rimane chiuso in se stesso. La pittura pompeiana era una pittura corale, una pittura fatta di grandi personaggi che narrava, narrava una società, narrava una vita pubblica. L'uomo nella tarda antichità si chiude in se stesso, ha paura di ciò che sta fuori di casa. Infatti le pitture più importanti le troviamo nelle domus, nelle abitazioni. La dimensione è quella della casa. Tutto ciò che fa, che sta lì fuori della casa, nelle abitazioni di Efeso, per esempio, sono una testimonianza preziosissima di questa pittura. Tutto ciò che sta fuori dalla casa impute timore. La casa è la prima dimensione in cui cercare sicurezza e l'altra dimensione è quasi l'opposto, è la tomba. Anche nelle tombe, quindi, nei dischi funerari sotterranei, le pareti vengono coperte di pitture. E lì poi ora entreremo in un discorso molto più complesso, perché questa società che ha paura, e ha paura soprattutto dello sconosciuto, di ciò che non si può prevedere, ha paura della guerra, ha paura della morte, di una morte che arriva all'improvviso, un'invasione, un attacco di un nemico imprevisto, un'epidemia, una carestia, cerca qualcosa che possa dare conforto, ma soprattutto possa dare una sicurezza. In tutta questa situazione di grandi incertezze, solo una cosa può essere certa, può dare conforto, sapere che comunque, se la morte è inevitabile per tutti, c'è qualcosa dopo la morte. Ecco, il terzo secolo, terzo o quarto secolo, sono periodi in cui si affermano anche le dottrine di salvezza, i misteri religiosi, che arrivano dall'Oriente, con la definizione ex orientelux, che io nell'improvviso frequentemente, e che ritorna nella pittura. Dall'Oriente arrivano le grandi religioni, il culto di Iside, il culto di Mitra, e soprattutto quello che poi, nel tempo, avrà il sopravvento, ovvero la religione cristiana. Tutte queste dottrine richiedono necessariamente all'interno dei luoghi di culto, le pitture. Ecco, una parte consistente del mio lavoro è dedicata proprio a queste dottrine, il mitraismo, io lo tocco, perché ragiono sulle pitture all'interno dei santuari di Mitra, ragiono anche su determinate pitture all'interno di sepolture, che potrebbero fare pensare a degli iniziati, ma ovviamente io mi concentro molto sulla pittura cristiana. O meglio, utilizziamo un termine comune, la pittura pariocristiana, ovvero della formazione della dottrina cristiana. E qui, tra la fine del III e il IV secolo, c'è molto su cui ragionare, perché questa dottrina cristiana prima vive in clandestinità, e quindi non si può proporre a un pubblico apertamente delle immagini, è vietato, anzi, chi veniva scoperto a dipingere e rappresentare immagini cristiane immediatamente veniva denunciato e processato per essere cristiano, dissidente, ribelle alle leggi di Roma. I cristiani lavorano in ombra, nascosti, e per questo la pittura cristiana delle origini è una pittura insicura, fatta da mani che la fanno per un proprio talento, ma non certo per avere fatto degli studi di pittura, la pittura ufficiale è una pittura pagana. Per noi questo è molto importante. Anzi, proprio qui, nel mio libro, metto proprio la chiave di passaggio che poi ci permetterà di capire l'arte alto medievale. Perché questa, quest'arte fatta di simboli che solo i pochi iniziati possono capire e sta alla base dell'arte, di un'arte, di una iconografia fatta di motivi simbolici. Ci accorgeremo infatti nei primi secoli del Medioevo che il simbolo diventa un elemento imprescindibile nella produzione artistica. Il pittore deve ragionare attraverso i simboli. Lo farà ancora nei secoli successivi quando ormai l'arte, la religione cristiana è una religione ufficiale, non più perseguitata, ma lo fa a maggior ragione quando è perseguitata perché è un insieme di simboli, un insieme di simboli nascosti. L'arte ufficiale e con arte ufficiale intendo dire proprio la società romana, pagana, non era in grado di capire, di comprendere determinati elementi simbolici e quindi nella catacomba in cui era presentato per esempio un cesto di pani sopra un pesce chi la vedeva non avrebbe avuto subito un'idea di che cosa si trattava e così il pesce i ctius dell'acronimo o anche del alfa e omega tutti elementi che ai pagani sfuggivano non sapevano di che cosa si trattava ma nello stesso tempo erano elementi facili da rappresentare che non richiedevano una particolare preparazione. Il quarto secolo rappresenta un momento di passaggio estremamente importante. Il quarto secolo che io nel libro un po' sintetizzo attraverso un affresco che secondo me si assume un po' tutta la società a tardo antico ovvero la cosiddetta Dea Barberini questa Dea seduta in Torono trovata nell'area del Battisterio di San Giovanni a Laterano a Roma e poi un po' ricostruita secondo dovevano essere criteri di restauro un po' anche difficili da condividere ma comunque rappresenta una Dea in Torono chi è? Roma? Minerva? Non ci interessa dire effettivamente chi fosse sappiamo comunque che è un momento in cui Roma deve molto alla sua tradizione ma nello stesso tempo vive una forte contraddizione perché queste nuove dottrine religiose in particolare quella cristiana la costringono ad andare oltre io faccio un accenno veloce non essendo un trattato di storia la questione della statua della Vittoria Lata all'interno del Senato che viene fatta togliere a un certo punto perché la religione ufficiale è quella cristiana e questo questo dibattito alimenterà molto gli scritti soprattutto dei Simmachi dei Nicomachi come Pagani ma anche dei di Sant'Ambrogio insomma ci sarà tutto una questione di un dibattito molto forte perché Roma Roma ha due anime e queste due anime ritornano nella pittura ecco io cercherò nel cerco nel mio libro di fare questo confronto non do delle soluzioni faccio delle riflessioni e invito chi legge a pensare per esempio al filosofo il filosofo che è un'immagine precisa e costante sia sui sarcofagi che negli affreschi nei mosaici che appartengono all'iconografia pagana il filosofo viene preso Tugur semplicemente trasparito nel contesto cristiano e diventa l'apostolo l'uomo con la toga la barba lunga i capelli canuti lo sguardo perso nel vuoto da filosofo diventa apostolo lo stesso San Paolo San Pietro più complessa poi è l'immagine di Cristo su cui io mi soffermo un po' di più perché Cristo in un primo momento viene rappresentato giovane Apollineo perché? perché l'immagine ecco l'immagine nella tardoantichità che poi ci si introdurrà gli elementi dell'alto medioevo l'immagine è tutto teniamo presente una cosa che non è di secondaria importanza che nella tardoantichità così come nei primi secoli del medioevo e anche ancora dopo la società era fatta soprattutto da gente che non era in grado di leggere né tanto meno scrivere l'immagine era un veicolo eccezionale di comunicazione chi vedeva l'apostolo lo individuava subito indipendentemente se c'era o meno scritto il nome vicino ecco che queste immagini diventano elemento di studio di analisi a partire da questi secoli dell'alto medioevo non è tutto così lineare non è tutto così semplice io nel libro metto anche dei casi particolari degli affreschi delle catacombe di Via Dino Compagni delle catacombe dell'ipogeo di Via Dino Compagni a Roma situazioni complesse in cui in un ipogeo in un fatto da pitture di ambito cristiano tratte dal Vecchio e dal Nuovo Testamento e ad un certo punto in alcuni in una zona di cui alcuni cubicoli presentano tutte le fatiche di Ercole oppure presentano un'immagine celebre ovvero il medico o il maestro che con una bacchetta indica le parti anatomiche su un corpo sezionato messo ai piedi ed è circondato dai suoi allievi cosa strana per un ipogeo che doveva essere cristiano e allora ragionare sulla società tardoantica da questo punto di vista è abbastanza complicato le pitture diventano una fonte una fonte preziosa perché dicono quello che le fonti letterarie non dicono non arrivano a dire perché o non possono dire o non vogliono dire questa condivisione cioè questo bisogno di convivere che c'è fra cristiani e pagani solo le pitture le possono dire la situazione poi si squilibrerà in maniera definitiva alla fine del IV secolo e resistiamo anche a violenze spaventose ad Essandria per esempio sappiamo di quegli scontri che portarono alla morte violenta di questi pagani perseguitati da una maggioranza cristiana che non li accetta più tutto questo le pitture noi le possiamo utilizzare come momento di passaggio di transizione ma anche di formazione perché nella tardoantichità quindi con la caduta dell'impero romano si forma questo repertorio iconografico che poi passa all'alto medioevo se io guardo velocemente fra alcune immagini presenti nelle catacombe mi accorgo che trovo il banchetto eucaristico la cosiddetta agape funeraria che diventerà poi il modello per l'ultima scena altre immagini significative possono essere le adorazioni dei magi i momenti del nuovo testamento quindi le scene del Vangelo che si formano in maniera molto semplice se voi guardate per esempio l'adorazione dei magi nelle catacombe di Priscilla a Roma sono immagini semplicissime sono le silhouette dei personaggi di queste tre figurine di tre colori diverse che avanzano verso una donna seduta con un bambino in braccio di una semplicità assoluta ma perché perché una pittura del terzo secolo l'ha fatta un fedele un cristiano che vive in clandestinità non l'ha fatto un grande pittorio non l'ha fatto un maestro ma qualcuno che ha voluto sfidare se stesso e disegnare dipingere sulla tomba questa immagine la pittura la pittura alto medievale nasce così spontanea fatta di bisogno bisogno di comunicare nelle catacombe cristiane emergono queste immagini abbiamo le figure degli oranti dei defunti che vengono messi rappresentati con le braccia aperte in segno di preghiera e fra questi oranti per esempio c'è una giovane donna con un bambino in braccio nel cemeterio emaius a Roma che viene interpretata anche come la madonna con Gesù in bambino e Gesù bambino in braccio ecco interpretazioni che a volte ecco anche sono anche complesse difficili da capire perché noi quelle chiavi di lettura non ce li abbiamo sempre o peggio abbiamo più chiavi di lettura e quindi ci manca la parola definitiva per poter dare una visione precisa ma nel mio libro io non voglio dare delle parole conclusive anche perché l'arte antica come anche l'arte alto medievale richiedono uno sforzo innanzitutto di studio notevole perché bisogna ragionare come chi guardava e chi vedeva quelle opere e soprattutto bisogna essere pronti a degli aggiornamenti e dei cambiamenti dotati anche da nuove scoperte la pittura infatti dei secoli successivi alla caduta dell'impero romano è una pittura sfuggente innanzitutto sfuggente nel vero senso della parola perché perché nei secoli successivi quindi a partire poi dopo l'anno 1000 quindi tra il 1200 e il 1300 molte chiese e monasteri furono ristrutturati modificati e quindi le pitture più antiche sono state cancellate sono andate perse pensate a Santa Maria Antigua Roma a cui io dedico molto spazio in un capitolo nel mio libro c'è questo cosiddetto parincesto che non è altro che una stratificazione di immagini documento preziosissimo immaginatevi quasi una sorta di libro fatto di più fogli sovrapposti in cui noi scendiamo ai primi e alle prime pitture ci accorgiamo che questi uomini medievali alto medievali guardavano alla pittura ellenistica come modello a un realismo a un naturalismo a un senso della del volume del movimento che non altrimenti si potrebbero collocare in questo medioevo nel mio libro poi ovviamente dedico lo spazio necessario a quello che è il grande la grande frattura la caduta dell'impero romano d'occidente la nascita di Bisanzio l'arte bizantina e quello che è poi un percorso fatto di grandi opere e di opere un po' meno note per questo da questo punto di vista io ho preferito dividere due capitoli nel senso che da una parte ho analizzato l'arte bizantina nella sua evoluzione e soprattutto con la cesura della questione dell'iconoclastia che cambia profondamente l'arte bizantina e dall'altra in un capitolo a parte ho voluto analizzare la pittura bizantina in occidente perché questi artisti bizantini che si spostano in occidente un po' più chiamati su commissione pensate ai sovrani normani che chiamano gli artisti bizantini per in particolare i mosaicisti per le loro chiese Monreale Cefalù Palermo ma soprattutto ci sono anche i monaci i monaci che portano dall'oriente la loro cultura anche iconografica che scappano tra il settimo e l'ottavo secolo quando arriva una nuova minaccia dell'Islam i musulmani che occupano tutta la parte orientale e tutte le coste del Mediterraneo orientale questa arte bizantina arriva da noi entra in contatto con l'occidente e in questo conflitto in questo questo contatto è fatto anche di elementi conflittuali nel mio libro li ho sintetizzati soprattutto guardando quello che è la situazione contestuale dell'occidente ovvero l'arte carolingia Carlo Magno ha un rapporto molto conflittuale con i bizantini da una parte ne è affascinato li vorrebbe legare a sé per far rinascere il sogno di Roma dall'altra poi c'è un conflitto molto forte che porterà sempre una netta separazione comunque fra l'oriente e occidente l'occidente ladino l'occidente anche quello di Carlo Magno è un occidente contrario all'arte bizantina alla società bizantina alla religione bizantina ma nello stesso tempo ha bisogno di quest'arte bizantina e quindi noi troveremo richiami all'arte bizantina da tutte le parti dell'Europa dalla Sicilia dall'Italia meridionale fino al centro della Francia nella Spagna questo perché perché comunque è un'arte ricca è un'arte fatta tecnicamente di elementi molto avanzati ecco che nel mio libro e qui vado un po' una conclusione l'arte bizantina nel suo con tutte le sue contraddizioni e soprattutto con un rapporto conflittuale con l'occidente comunque sta alla base per quella che poi sarà la pittura romanica la pittura romanica è l'ultimo periodo che io analizzo periodo che è anche complesso da studiare perché è anche uno dei motivi per cui ho lavorato a questo libro in quanto normalmente nei trattati nei volumi di storia dell'arte medievale quando si parla di romanico si parla di architettura si parla molto di scultura ovviamente ma si parla pochissimo di pittura perché la pittura è qualcosa di estremamente limitato numericamente proprio per le questioni che vi dicevo ovvero le fasi più antiche vengono cancellate da quelle successive ci sono ristrutturazioni dei monumenti danneggiamenti rimane molto poco ma per questo periodo di passaggio io non solo cerco di mettere insieme tutta una serie di esempi utili a chi vuole studiare la pittura romanica da seguire come punto di riferimento ricordiamoci che siamo in un periodo storico particolare per l'Occidente siamo durante un periodo che si chiama il periodo delle crociate qui la religiosità la spiritualità ha un valore estremamente forte ma da un punto di vista tecnico ecco nel mio testo cerco anche di fare un'ultima riflessione che è di natura proprio esquisitamente appunto tecnica ovvero l'arte la pittura che dalla tardendichità ha ricevuto in eredità tutta una serie di elementi elementi simbolici contenutistici iconografici ecco nella nei primi secoli del Medioevo si fa completando anche da un punto di vista tecnico perché perché la pittura nei primi secoli del Medioevo è qualcosa di coltivato non più da quei cristiani che vivono in clandestinità nelle catacombe bensì da quei cristiani che lavorano in silenzio all'interno dei monasteri dentro i monasteri l'arte che ha maggior successo ovviamente dal punto di vista iconografico è la miniatura questi monaci emanuenzi che ricopiano e ci conservano i volumi della classicità patrimonio enorme che se no si sarebbe distrutto sarebbe andato perso questi monaci arricchivano i volumi di miniature le miniature non sono altro che pitture piccoli capolavori che erano messi all'interno del volume noi non conosciamo i nomi di questi monaci perché erano votati all'unità non si firmava chi copiava una bibbia o chi copiava un testo di un padre della chiesa meno che meno si firmava chi andava a copiare un testo classico uno storico greco uno storico romano un filosofo lavoravano nell'ombra dentro queste biblioteche nello scriptorium però questi monaci creavano anche delle immagini le immagini le rappresentavano su carta ecco io voglio chiudere questa mia presentazione del libro con quest'ultima riflessione che è molto importante ovvero nel momento in cui la pittura deve rinascere e quindi chiamo per farlo il primo rinascimento il duecento il merito è soprattutto di questi monaci essenzialmente di questi monaci che hanno conservato la capacità di dipingere utilizzare quel repertorio di simboli della tardoantichità e che cosa fanno? O si avventurano a dipingere le pareti e quindi fanno degli affreschi delle pitture barietali ma soprattutto si rivolgono a quello che è il materiale più umile il legno il legno è qualcosa di semplice di facile da avere prendono delle tavole di legno le tagliano a seconda di ciò che vogliono realizzare soprattutto le croci quindi le vengono sagomate unite fra di loro queste tavole di legno e vanno a dipingere ma attenzione non dipingono direttamente sul legno come si potrebbe pensare no dipingono su un foglio di carta pergamena che applicano sul legno perché? ma perché sono i monaci abituati a dipingere le miniature a dipingere su carta che a un certo punto debbono fare questo passaggio e dipingere su superfici più grandi non lo fanno subito lo faranno progressivamente aiutandosi con questo supporto che è la carta pergamena e aiutandosi anche con un linguaggio fatto di simboli di un'arte che doveva comunicare concetti complicati difficili il peccato la salvezza la redenzione cosa c'è dopo la morte il rapporto con il divino tutte le cose che se scritte avrebbero richiesto centinaia migliaia di pagine su cui scrivono filosofi teologi dell'alto medioevo ma nello stesso tempo ci sono queste immagini immagini che sintetizzano stiamo attenti però queste immagini non dovevano solo insegnare perché se no li troveremo soltanto nelle chiese frequentate dai laici invece le immagini c'erano anche nei monasteri nei chiostri dove andavano dove giravano i monaci letterati capaci di leggere e scrivere e quindi che cosa significa che non imparavano guardando le immagini ma venivano ammoniti ammonire e ricordare ciò che è il modello della santità della sacralità attraverso sempre l'immagine l'immagine è concettuale l'immagine deve comunicare e comunicare è fondamentale se pensiamo che nel tra il mille alla fine del mille e il millecento partono partono i giovani di un'aristocrazia europea votata alla conquista al cambiamento e alla rivoluzione ovvero quei crucesignati ovvero i crociati che portano di dietro questo bagaglio di immagini se li riportano dove in Oriente c'è un ritorno ex Oriente Lux dopo il ruolo partito all'inizio le crociate riporteranno in Oriente dei modelli iconografici il mio libro finisce proprio qui queste immagini questi modelli iconografici che erano arrivati dall'Oriente passano attraverso l'Occidente vengono recepiti e rielaborati e ritornano in Oriente creando ulteriori commissioni e rendendo l'arte alto medievale affascinante complessa difficile e concettuale diciamo che è un'arte che si avvicina molto al nostro contemporaneo dove non è tanto la tecnica essere importante quanto piuttosto l'idea che vuole esprimere l'artista e penso di avere parlato anche abbastanza grazie grazie professore davvero molto interessante potremmo stare ore a parlare di questi argomenti perché sono molto affascinanti io a questo punto però ricordo il titolo del libro così si corre in libreria e lo si fa proprio per scoprirne pagina dopo pagina tutti gli insegnamenti e il titolo è oltre il visibile introduzione allo studio della pittura alto medievale appena pubblicato da Bonanno Editore scritto da Giancarlo Germana Bozza che abbiamo avuto il grande piacere di avere il nostro gradito ospite che io ringrazio tantissimo mentre a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove ritrovate tutti le videopresentazioni realizzate fino ad ora grazie ancora professore grazie grazie a lei grazie a tutti voi che mi avete ascoltato a l'entrada del Tempsklar per gioiare e cominciare e per gelo si irritare e la regina mostrare che le sia amorosa alla via alla via c'è la seno la seno bala in treno tem seno bella fight per tot mandar e la non si aggisca alla mar più sei l'anni bacio all'ar grazie a tutti